Senti, ma io ho guardato un po' il tuo curriculum su internet. Lo recupero, posso prendere. C'è 20 pagine di roba, c'è una storia pazzesca. Tu arrivi in Italia nel 73, 75... Sì, ho fatto che io, così, sono narcisista. Eh, va bene, parliamo di te. E devo dire che ho fatto questo, ho fatto quello. Poi anche per rispetto a coloro che mi hanno dato lavoro. Certo. E in Italia, c'è uno che viene da Giappone, con la faccia prepotente, e faccio lavorare, faccio fare coreografia, faccio fare film. Deve essere umile, deve essere molto simpatia. Gli italiani hanno grande simpatia per i giapponesi o no? Sì, molta. Sì, sì, perché siete un popolo rispettoso, tutti molto educati, tranquilli. Quindi siete rassicuranti, secondo me. Rassicuranti. E a me, invece, stare in Italia è rassicurante. Ah sì? Sì, sì, sì. Anche quando a Roma, anche a Napoli, come guida, no? Sì, sì, è rassicurante. Questi guida, loro devono fare la loro vita, no? In Giappone è un po' diverso, però. Molto diverso. Sono stato tre giorni a Tokyo, solo una volta nella mia vita. E quando davamo l'indirizzo al tassista, di solito non sapeva dove era la strada. Chiedevano tra tassisti. Insomma, è molto difficile guidare a Tokyo, probabilmente. Perché è uscito fuori, spuntato fuori nella strada, la casa, dopo che è diventato tutto deserto di guerra. Spuntato qui. Allora, numero uno sta qua, numero due sta qua. Ecco. Poi ho detto tre, quattro, cinque, sette, otto. Quindi, io quando stavo al liceo ho fatto un lavoro per guadagnare qualcosa di posticino. postino. Ah, postino. Quello che porta la... Sì, sì, postino. È veramente difficile. Esatto. Però è bello, il postino giapponese mi piacerebbe fare. Però forse l'attore è più divertente. È più divertente, attore. Perché da attore puoi fare il postino, il poliziotto, il ladro, l'assassino, l'esaurito, il doppiatore. Esatto. E come fai tu è ancora più divertente. E vabbè, mi piace spaziare. Ma come te perché tu fai mimo, ballerino. Ho cominciato con mimo perché non parlavo italiano. E danza. Poi ho cominciato a parlare, parlo orecchiare. Allora è venuto fuori un boom di film di azione imitando il grosso successo ariudiano. Quindi quando va successo Mad Max, allora dopo poter seguire la mondiale. Quando succede Cannibali o qualche cosa, quando succede Conan Barbaro, fai imitazione di Conan Barbaro. E in quel periodo ho avuto grande fortuna di starci lì con la faccia orientale e quindi un po' samurai, un po' kamikaze, un po' Bruce Lee. Hai fatto anche film comici, no? Con Medici, con Lino Banfi, con Thomas Miller. Ho avuto anche piacere di lavorare con grandi maestri di film comici in Italia. Ettore Scola. E hai detto la laurea, ti sei laureato in? Lingua anglocaxon, inglese. Quindi parlavi già inglese quando stavi in Giappone. Quindi poi a Londra è stato naturale. Sì, sì, sì. E non hai mai pensato di tornare in Giappone? Magari adesso no, però quando eri più giovane, quando avevi, che ne so, trent'anni, quaranta. No, hai detto il resto è qua. Sì, sì, sì. Lì nato come europeo. Cosa ti piaceva di più dell'Europa rispetto al Giappone? Quello di cui abbiamo parlato un po'? Sì. Io penso che la questione alla fine è l'anima, che è la vita precedente. C'è dimestichezza con l'Europa. Ok. Quindi c'è dimestichezza con lingua, inglese, poi italiano, poi latino, greco, storia dell'antica Grecia, antica ebrea, sono molto familiali per me. Ti sentivi a tuo agio, insomma, nell'ambiente culturale che frequentavi? Sì, sì. Non è che ci sono tantissime persone così in Giappone. e mia madre quando io ero piccolo diceva mentre mangiavo che diceva ma strano è che questo bambino parla sempre con mano. Gesticolavi come gli italiani. Ma che fai? Ma che dici? Sì. 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 Sì.